C'è Carlo Bonati Tu che ne sai E poi c'è Giorgio Riccardi e Paolo Riccardi e Franco Riccardi e l'Anna Riccardi La Luciana di Riccardi, l'altra Luciana di Riccardi, Giovanni Barbieri, parente di Giorgio Riccardi Tu che ne sai quanti fratelli hai Una vita a Dozzano, l'Adriana che balla, la cena in via Cavestro con Piero Ugolotti Che fa gli spaghetti, l'attore Meneghetti in cordili a parlare due ore con Nelson Pamponi A parlare due ore con Nelson Pamponi Ciao Nani Ciao Nani Ciao Nani E vivi a Gaiano E dormi a Gaiano E mangi a Gaiano Lavori a Gaiano Fai tatuaggi a Gaiano Il gelato a Gaiano Vai a messa a Gaiano Aspetti il 6 a Gaiano Perché lo fai? Che non c'è una fiorista, non c'è una farmacia, non c'è neanche un teatro e questa è pura follia Non c'è il museo Guatelli, non c'è un parrucchiere, non c'è un estetista e neanche un barbiere Tu che ne sai perché non te ne vai Perché non c'è la stazione L'Adriana che balla, la cena in via Cavestro con Piero Ugolotti Che fa gli spaghetti, l'attore Meneghetti in cordili a parlare due ore con Nelson Pamponi A parlare due ore con Nelson Pamponi Ciao Redi Ciao Redi Ciao Redi Vivere per cicciarare O cicciarare per vivere Andare in paese per non pensare Parlare sempre spettacolare Vivere per cicciarare Andare in piazza è spettacolare Vivere per cicciarare E io adoro Una vita a Dozzano L'Adriana che balla, la cena in via Cavestro con Piero Ugolotti Che fa gli spaghetti, l'attore Meneghetti in cordili a parlare due ore con Nelson Pamponi A parlare due ore con Nelson Pamponi Ciao Nani Ciao Nani Ciao Nani Ciao Nani Ciao Nani Ciao Nani Una vita a Dozzano Oh.